Toc toc, io non voglio andare via con un Audi, magari visto che c'è una 500 prima io, mi rimediate, adesso che vogliamo essere, diciamo, presidenti del consiglio, una Stelvio, beh, effettivamente si potrebbe presentare anche il Lamborghini in Ferrari, io non avrei nulla incontrato, a me divertirebbe moltissimo una Ferrari davanti al Quirinale. Che problema c'è? Vengo con la Ferrari, vengo con la Ferrari al Quirinale. Vroom! Con il motore a scoppio e pie alla transizione ecologica.